Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha ritirato l'appello a Israele affinché che ponga fine agli insediamenti di coloni in Cisgiordania. Come si legge in una nota stampa diffusa dal suo ufficio, il segretario sta seguendo con preoccupazione gli sviluppi della situazione nella cosiddetta area E1 ad est di Gerusalemme. Il leader delle Nazioni Unite ha sottolineato che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali in base alle leggi internazionali e ha chiesto che qualsiasi ulteriore piano di insediamenti nella E1 venga fermato. Nei giorni scorsi i poliziotti israeliani hanno smantellato una manifestazione pacifica di cittadini palestinesi ed attivisti internazionali che stavano manifestando contro la colonizzazione e sono state arrestate circa 200 persone che avevano allestito un campo di presidio nell'area. Pregare Gesù in ebraico. Andiamo insieme alla scoperta della Keilah, la comunità cattolica ebreofona di Terra Santa. Ebrei, musulmani e cristiani a loro volta suddivisi in molteplici riti. Un quadro complesso, quello delle confessioni presenti in Terra Santa, nell'articolata geografia religiosa di Gerusalemme, ha trovato in suo spazio una realtà relativamente recente e di piccole dimensioni. Parliamo della Keilah, la comunità cattolica di espressione ebraica. Quella che a prima impressione può sembrare una contraddizione in termini, rappresenta in realtà un'esperienza importante nella storia della Chiesa. Raccoglie infatti i fedeli cattolici di lingua ebraica, cittadini integrati nella società israeliana. Tutto inizia a metà degli anni 50, quando il cardinale Eugenio Tisseron, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, concede la possibilità ai cattolici ebreofoni di Terra Santa di celebrare la Messa in lingua ebraica. Nello stesso anno viene fondata l'opera di San Giacomo, che costituisce un vicariato all'interno del patriarcato latino di Gerusalemme. A ricostruire la storia di questa realtà e raccontarne gli scenari presenti e futuri, è Giorgio Acquaviva in un approfondito dossier dal titolo Cheilah tra origini e futuro, pubblicato nell'ultimo numero di Terra Santa, periodico di approfondimento dell'omonima casa editrice. Oggi esistono comunità di espressione ebraica in sei grandi città, Gerusalemme, Tel Aviv-Giaffa, Haifa, Berceba, Tiberia dei Nazareth. Primo vicario patriarcale per la comunità ebreofona è stato dal 2003 il vescovo Jean-Baptiste Gurion. A lui è succeduto padre Pier Battista Pizzaballa, custode di Terra Santa. Nel 2009 l'incarico di vicario patriarcale è passato a padre David Neuhaus, Gesuita israeliano, che è l'attuale responsabile della comunità. Tra i principali compiti del vicariato ebraico, fondare e sviluppare comunità cattoliche di lingua ebraica, fungere da ponte tra la Chiesa e il popolo di Israele, rafforzando i legami di amicizia tra ebrei e cristiani, ed infine testimoniare i valori cristiani di pace e giustizia, perdono e riconciliazione in un contesto di violenza e di conflitto armato. 3.000 città in tutto il mondo in preghiera per 24 ore. Torna domenica 27 gennaio la quinta giornata internazionale di intercessione per la pace in Terra Santa. L'iniziativa su volontà di alcune associazioni giovanili cattoliche si tiene ogni anno nell'ultima domenica di gennaio. Quest'anno corrisponde alla giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah. Parrocchie, sacerdoti e laici si mobilitano in tutto il mondo per fare in modo che la catena di preghiera sia interrotta per 24 ore. Alcune settimane fa vi abbiamo parlato della Fondazione Giovanni Paolo II che ha sede a Firenze ed opera in Medio Oriente. Oggi insieme al Presidente dell'Associazione Monsignor Giovannetti andiamo a scoprire quali sono i progetti a Betlemme e Gerusalemme. Vediamo il servizio. La Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo nasce dal lavoro decennale della Diocesi di Fiesole e di Montepulciano, Chiusi, Pienza. In collaborazione con numerose altre diocesi, istituzioni e realtà laiche e cattoliche a favore dei paesi del Medio Oriente e di altre zone del mondo svantaggiate. L'azione complessiva ha prodotto notevoli risultati soprattutto in Israele, nei territori dell'autonomia palestinese e in Libano, con interventi non occasionali ma mirati a creare le condizioni per percorsi di sviluppo e di crescita permanente. In Terra Santa e in particolar modo a Gerusalemme e Betlemme, la Fondazione ha operato nell'ambito sociale, nelle istruzioni e nei servizi sanitari. Non possiamo costruire delle cattedrali nel deserto, dobbiamo poi operare perché queste realtà possano operare. Allora c'è il problema sempre dell'ospedale per i bambini, l'ospedale pediatrico chirurgico. Esiste sempre come far funzionare al meglio la Casa della Pace, dove si fa attività di formazione educativa e professionale a vari livelli. Si tratta di dare un sostegno consistente alle altre opere di Betlemme, come la Casa è fatta per i bambini sordomuti e anche alle altre opere per bambini. A Gerusalemme si tratta di continuare nella Gerusalemme araba questa opera di educazione anche ricreativa, unita alla parrocchia di San Giacomo. Un'attenzione particolare per Gaza in questo momento l'abbiamo, per ricostruire la scuola e per ricostruire anche le case che erano state distrutte. Questo dialogo fraterno ha lo scopo di incoraggiare la collaborazione fra ebrei e cattolici per la giustizia e per la pace, di rafforzare l'impegno per la tutela del creato. Lo afferma a margine della giornata ebraico-cristiana del 17 gennaio il segretario della Pontificia Commissione per il Dialogo con l'Ebraismo, padre Norbert Hoffman. Sulla base di una crescente amicizia auspica il dignitario Vaticano si potranno approfondire la conoscenza e la stima reciproche affinché sia possibile rendere una testimonianza comune della presenza e dell'opera salvifica di Dio in questo mondo. Ed in chiusura vi ricordo che oltre all'appuntamento settimanale con Terra Santa Link potete trovare sul sito www.tsdtv.it nell'apposita sezione blog Terra Santa aggiornamenti quotidiani ed approfondimenti sugli aspetti sociali, culturali, economici e politici della presenza cristiana in Terra Santa. Inoltre potrete rivedere tutte le puntate di Terra Santa Link nel canale Youtube di TSD nell'apposita playlist ed infine mandate i vostri commenti, i vostri suggerimenti all'indirizzo mail terrasantalink.tsdtv.it Grazie per la vostra attenzione, alla prossima settimana. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima settimana.